Ora è il tuo turno. Non devi toglierli finché non te lo dirò io. Pronta per la vendetta? Potrebbe porre fine alla relazione? Perché mi fai questo? Conto alla rovescia. Tre. Due. Uno. Porca miseria. Mi chiamo Diana e vengo dalla Carolina del Nord. Oggi sono qui con il mio fidanzato. Mi chiamo Denzel. Io e la mia fidanzata stiamo insieme da circa tre anni. Abbiamo due figli e lui è l'amore della mia vita. Spero che presto faccia di me sua moglie. Siete sposati o pensate di farlo? Siamo sposati, quindi... Cosa succede? Il matrimonio fa paura. È un grande passo. Perché? Voglio focalizzarmi sul nostro amore. Tutto il resto passa in secondo piano. Secondo me molte persone si sposano solo perché è quello che ci si aspetta da loro. Io sono giovane. Poi non so se è vero che ci si possa sentire pronti. Io non voglio più essere una fidanzata. Lo capisco. Tu sei del Queens. Ti manca? La mia famiglia è ancora qui. Come gestisci la cosa? È difficile perché hanno smesso di parlarmi quando ho avuto il secondo figlio. La mia famiglia mi ha tolto il saluto perché pensa che abbia commesso lo stesso errore due volte. Penso che fare il prossimo passo sistemerebbe tutto. Quando Denzel guarderà quel tatuaggio, voglio che capisca che o sarà sua moglie o niente. Questo disegno che hai voluto... ...lo vuole inchiodare. Wow. Cavolo. Tesoro, lo adoro. Denzel divorciare potrebbe essere più facile che convivere con questo tatuaggio per tutta la vita. Voglio che lui capisca che è per sempre e che dobbiamo legarci. Vatti qui. Sono con te. Sei sicuro di volerlo fare? Non è più il training day, Denzel. Adesso si fa sul serio. Sì, è vero. Vieni qui, amico. Mi piace. Devo chiedertelo, amico. Perché? Voglio che il messaggio arrivi chiaro una volta per tutte. Ti voglio bene. Spero che vada tutto bene. Anch'io. Pensi che sia brutto. Non so. Spero per te che non lo sia. Ti amo. Oh, niente. Ti amo anch'io? Vediamo prima il tatuaggio. Me lo hai fatto anche tu. Sei qui per fare qualcosa di grande. Sì. E non ti ha sfiorato l'idea che magari lei è qui per fare qualcosa di ancora più grande? Penso che stiamo per scoprirlo. Perché non facciamo uscire Kevin? Ciao, Denzel. Lo sai che me l'hai fatto tu? Per prendertela con me. Ok, amico. Oh, porca miseria. Oh, mamma. Lo metterà al tappeto. Ok. Ok, pronto? Tre. Due. Due. Uno. Che cavolo è? No. No. Ma cosa dovrebbe essere? Cioè, sarei un prigioniero. Non mi piace. Ok, Diana, spiegaci il significato del tatuaggio. Voglio un anello, quindi gliene ho messo uno alla caviglia. Tu non metti un anello a me, allora l'ho messo io a te. Non avevi niente di meglio? Cioè? Sei arrabbiato? Mi ami ancora? Sono senza parole. Oh, porca miseria. Che cos'è? Oh, mamma. Oh, cavolo. Da quando sto con te, tu mi hai reso una persona migliore. Un uomo migliore. Un uomo migliore. Basta. E... Mi meriti di essere felice. E io vorrei renderti felice. Sì, 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 sì. Oh, mamma. Il mio amore. Anche se è ovvio... Denzel, vuoi spiegarci il significato? C'è questa bellissima skyline di New York, che è il suo luogo di origine. Dicono che casa è dove c'è il cuore. Io l'amo. E voglio che la nostra famiglia sia unita e che lo sia per sempre. Che carina. Non ce la faccio. Non me l'aspettavo proprio. I sogni a volte si avverano. Ti amo. Siamo anch'io. Grazie.